Potrebbe riprendere già da oggi la distribuzione dell'acqua a Caltanissetta. Un grosso disagio quello di questi giorni per i cittadini, soprattutto considerando il fatto che questo accade proprio quando si attraversa il caldo periodo estivo. La rottura di una tubazione nella condotta ancipa nei pressi di Cozzo Olivo, infatti, ha lasciato a secco Caltanissetta in questo inizio di settimana. È già ripresa invece la distribuzione in alcuni comuni. A San Cataldo, già a partire da ieri, è ricominciata nella zona Platani, zona Tigli, Don Bosco, Pizzo Carano Alto, Via Aurora e continuerà nei prossimi giorni interessando le altre zone. L'acqua è tornata a scorrere regolarmente anche nei comuni di Mazzarino, Serra di Falco, Riesi e Butera. Intanto a Caltanissetta, proprio questo pomeriggio, si svolge un tavolo tecnico in presenza del primo cittadino in cui si decideranno le sorti della distribuzione idrica in città. Grazie. Grazie.